Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla insieme, infatti sono insieme al mio caro amico Bellafaccia Toc toc, toc toc Starei cercando di fare una intro, vieni, entra, entra fuori qua dentro Vabbè, ciao, ciao Ciao, Bellafaccia, sei a conoscenza del fatto che sono uscite le nuove magliette e felpe ufficiali di Kendall? Oh mio Dio, sì, io ho comprato gli stuzzicadenti di Kendall No, non esistono gli stuzzicadenti Vabbè, comunque ragazzi, link in descrizione se volete comprare le magliette per l'estate Ok, Bellafaccia, che cosa facciamo oggi nella bellissima vanilla insieme? Guarda, io non ho idea, però vuoi sapere una novità? Dimmi C'è un nuovo amichetto Un nuovo amichetto? Ma aspetta, dove è finito il mercante? È sparito, è andato via No, me l'avevate detto tutti quanti nei commenti che prima o poi sarebbe sparito, forse dovevamo ucciderlo Non aveva più voglia di stare con noi Vabbè, anche io non ho più voglia di stare con te, vattene via per favore, allontaniamoci No, guarda, guarda, ti faccio vedere, c'è un nuovo amichetto Magari lui ti sta simpatico, guarda Hai spuntato un nuovo mostro? Sì, è Pierino, guarda Pierino Pierino Pierino, sì Ma è proprio piccolo, ma è figlio tuo? Eh no, è spawnato qui dal nulla, ieri notte, sì Ciao Pierino, ciao No, ma lui non è la tua mamma Mi sa che d'ora in poi sarai tu la sua mamma Ma stai zitto, stai Dagli il latte per la faccia Io non voglio essere la mamma di nessuno Ma come no? Aspetta, ma tu mangi questo? Tieni, mangia Mercante Questo magari Mi sei abbandonato Che cosa mangi? Mercante Vabbè, per la faccia Eh Infatti noi gli abbiamo fatto una casa gigante E lui se ne va Eh, ma guarda Oh mio Dio, ha rubato tutto Io lo sapevo che non dovevo lasciare le cose qua dentro No, come? No, Jimmy Tira fuori Jimmy da qua Si è incastrato No, si è incastrato Jimmy Jimmy esci Jimmy esci, hai capito? Oh, mamma mia Ecco, vedi che sta saltellando Ci sono altri incastrati Ma che cavolo fanno qua sotto? No, vai Ma dai, ma lasciali lì sotto Ma sei sicuro che si divertono? Secondo me sono incastrati Uscite da qua No, state lì Ecco, sì Uccidili Già che tu sei lì Vabbè, senti Rimettiamo qua la scaletta Così almeno non si incastrano più Bella faccia Dove sei? Sì Sono qui, sì Quindi il mercante se n'è andato Ma come hai fatto ad andarsene? Ha volato? Eh, non lo so Cos'è tipo un Mary Poppins? Quei lama È Babbo Natale forse È Babbo... Era Babbo Natale Ok, senti Il prossimo Natale Noi facciamo un albero gigante Qua dentro Ok? Oh mio Dio E ci facciamo spedire tutti i regali E beh, i materiali ce li abbiamo Guarda, gli alberi Ne abbiamo A quintali Vieni, vieni qua Io mi faccio spedire Cosa mi posso far spedire? Una Playstation Ok, io voglio una macchinina telecomandata Candle, comunque Ho la netta sensazione Che non siamo più soli in questo mondo Eh, abbiamo tutti gli amichetti là No, no, no Non sto dicendo questo Tu non senti qualcosa in lontananza Che si sta avvicinando verso di noi Ah, eh, ho lasciato il pannolino lassù Eh, ma che schifo Non sto dicendo questo Qualcosa all'orizzonte Che cosa? Io sento una presenza all'orizzonte Da qualche parte Tu non senti la stessa cosa? No No, sinceramente no Bella faccia Secondo me stai impazzetto Hai passato troppi giorni in questa vanilla Secondo me è conviene Come no, come no Andiamo a letto A letto fresco, dai Io ti ho avvisato Oh no Perché è russa così tanto? Buongiorno Che splendida giornata Eh sì Buongiorno Un cavolo Buongiorno Sai cosa? Domani ti compro dei tappi Te li metto su per il naso E ti chiudo la bocca Così almeno Mi sono svegliato con un presagio Forza, forza Dobbiamo costruire subito Ma che cosa stai dicendo? Veloce Costruisci di qua Sentivo quella presenza E si è avverata Nel mio sogno Bella faccia Un'isola bellissima Bella faccia Bella faccia Torna subito qua Torna subito qua Ha detto Sì, infatti Allora Prima di tutto Falle in slab Così risparmiamo blocchi Non essere uno sprecone Scusa No, ma possiamo sprecare tutti i blocchi Ma cosa possiamo sprecare? Ci ho messo tre ore per prenderli No, non c'è tempo Lo so, Kendall Infatti Va a ne fare altre Io le metto Vai, vai Voglio proprio vedere Questo presagio Questa isola Ti fidivi di me? Sì, sì, sì Ora troviamo l'ender dragon Vai, vai, vai Ti sessi guai Troviamo qualcosa Non ci porterà da nessuna parte Ragazzi Forza, forza Kendall Io sono convinto Che ci saranno un sacco di ricchezze Beh, del resto In effetti Lama Lama Del resto In effetti Potremmo allargare l'isola Quindi Sì, continua Continua a scavare Così almeno Allarghiamo tutto quanto Vai, piazza Piazza Forza, forza Cosa vedono i tuoi occhi All'orizzonte La facciamo Se faccio Niente Vai, vai, vai No, no Non lo faccio Stai fermo Perché il presagio L'ho visto solo io Senza di me Non puoi andare avanti Ah, ok Ora dove dobbiamo girare Destra? Ok A te, tutta destra Non è scuola guida Hai finito i blocchi No, ne ho ancora Ne ho un sacco Ma dove stiamo andando Bella faccia Fidati, fidati di me Ma non c'è niente Fidati, fidati di me L'ho visto nel mio sogno Ok, sì L'ho visto dietro la mia casa Questa parte sarà tutta Quanta tagliata Non vi preoccupate Ma guarda com'è diventata piccola La nostra vanilla Da questa distanza Bella faccia Dove mi stai portando Beh, cosa potremmo fare? Potremmo rompere il ponte Vivere per sempre No, no, no Lo sapevo che era un suo piano Per uccidermi No, no, no Sta fermo Vieni, forza, forza Ci sono un sacco di ricchezze Ne sento l'odore Sì, sì L'odore delle ricchezze I miei sensi di pollo Si sono attivati Mi senti cosa sei diventato? Spider-Man adesso Ok, vai, vai Vai, vai, vai Oh! Cos'è, mi hai fatto prendere Cosa c'è? Girate Avevi ragione Avevo ragione io C'è una cesta C'è una cesta Veloce, veloce Velocissima Ma quindi ce ne potrebbero essere Delle altre nascoste qua nel mondo? Stai attento Secondo me è una trappola Di qualche pirata spaziale Ma che stai dicendo Continua a fare il ponte Vai, muoviti, muoviti Sì, prego Prima lei Ah, va bene Se hai paura Oh, cavolo Che paura Che cavolo Allora, vieni Seguimi, seguimi, seguimi Secondo te cosa c'è in quella cesta? Ah, non ne ho la minima idea Ma io comunque Kendall Stavo scherzando Io non No, aspetta Ma tu l'hai sognata questa cesta? No, io ti stavo prendendo in giro Cioè, io E guarda caso siamo arrivati nella cesta giusta No, no Che stai dicendo? Non è possibile Ma chi è che l'ha messa? Bella faccia? Eh, ho un po' paura, Kendall Anche io ho un po' paura Non è che c'è stato qualcuno qua dentro Non lo so Forse il mercante S'ha lasciato qualcosa Dici? Sì, potrebbe essere stato Se ne è andato via volando E poi ha messo Eh, questo è il suo bottino Fermo, fermo, fermo Allora, sei pronto? Sono pronto Sei pronto? Eh, per, per, prima Prima tu Vado Se ce la tiene Se è una gesta trappola Io, io vado qua Io, io Eh, allontano Guardami le spalle, eh Eh, sì, sì Forza Feifone Ok Uh, ah Che cosa c'è dentro? No, non ci posso credere Che cosa c'è? Non ci posso credere Eh, dimmi Dimmi qualcosa Non ci... No, no, no No, vieni a guardare tu Vieni, aspetta Piano, piano Piano, piano Piano, piano Che cosa c'è? Oh 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 Ma che Siamo ricchi Siamo ricchi Ma che cosa? Siamo ricchi Ehi, i diamanti Ehi, te li sei presi tu Eh? Ehi Ma dove? Dammi i diamanti Passami i diamanti Ma che diamanti? C'erano i diamanti Subito a metterli Però ragazzi C'erano i diamanti Torni subito qua Oh, cavolo Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta Guarda, cosa c'è il mano? Bambù? Ma come Ma da quanto è qua esiste il bambù su Minecraft? Ma come Guarda Cannero a zucchero Sabbia Quindi Trenta lapislazzoli Potrei usare i diamanti per farmi un elmetto No, no Ok, ve la faccio a penzoni Per capito Questi sono i materiali No, no, no Sta fermo Ma non ti puoi fare un elmetto con due diamanti In ogni caso Ve la faccio Torna subito qua Vieni subito qua Bella faccia Ascoltami Mamma mia Perché non ascolta mai È la cosa più utile che potrebbe Bene, è la cosa più utile Qualcuno vuole che facciamo un enchanting table Chi? Qualcuno? Il mercante? Eh, non lo so Chiunque ci abbia lasciato questi materiali all'interno di quella cesta Vuole che facciamo un enchante Oh, no, no Va bene, va bene Va bene? Ma io ho due livelli Eh, anch'io ho due livelli Sono morto nello scorso episodio Non abbiamo niente purtroppo Aspetta Passami i diamanti Passami i diamanti Eh Non mi fido di te Li vuoi tenere tutti per te Dai No, no, no Non li voglio tenere tutti per me Ok Oh Guarda Mi ha spuntato pure l'achievement Diamanti Oh mio Dio Dammi l'altro Ok Quindi Noi adesso possiamo fare l'enchant Che è così La facciamo Penso sia la cosa più utile, no? Eh, penso di sì Vai, vai La faccio, eh La sto creando Sì 3, 2, 1 Bam L'hai fatta? Eccola qua Oh mio Dio Piazza Ora ci possiamo enchantare Ma bella faccia Ma chi è che ci ha regalato tutti questi materiali? Si può rompere, vero? Eh, non Sì, sì, sì Si può rompere Perfetto Che paura, ragazzi Pensiamo che dove Vabbè Allora la potrei mettere qua All'interno di casa mia Esattamente al centro Ti fermi un attimo Che c'è? Ma tu eri veramente convinto Che si fosse Un baule Sospeso per aria Con tutte quelle cose dentro? Beh, abbiamo visto tutti e due Non sono mica cieco Non so io L'ho messo Ma come l'hai messo tu? E dove l'hai trovato questi materiali? Sai Gli iscritti mi hanno detto Che per andare avanti In questa serie Visto che ormai avevamo fatto tutto Potevamo mettere un po' Di pepe In questa vanilla Di pepe? Sì, vabbè È un modo di dire Dai Gli ho messi io in creative Dai Ah, quindi le hai presi tu Questi Ok Quindi così possiamo andare avanti Possiamo continuare Ora possiamo inciantarci Abbiamo anche tantissime altre cose Abbiamo più cose divertenti Il bambù Cosa ci fai col bambù? Il bambù non lo so Aspetta Dove si può mettere il bambù? Lo posso mettere qua? Magari escono i panda Oh mio Dio Sì, prova Aspetta Piazziamolo Allora Quindi Crescono con la farina d'ossa Ok, vabbè Noi ne abbiamo tantissime farina d'ossa Vai, vai Mettili, mettili tutti Metto così quindi? Ti stai detto a Pierino Certo che è stata proprio un'idea geniale Quella degli iscritti Quella di farti Di farti prendere tutti questi materiali Sono stati bravissimi Ok Ottimo Fantasio Quindi ora possiamo fare tante altre cose Oh 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 Che figata Guarda il bambù gigante Oh mio Dio Ma crescono velocissimo Ah, non l'hai fatto No, questo no Questo no Wow Questo qua sì È più alto di me che è dal guarda Ma fino a qua Guarda anche quell'altro è cresciuto Oh mio Dio Ma fino a dove arrivano? Questi in realtà sembrano Delle Degli escrementi Pierino Non ci fai Ok? Pierino Non ci fai Vedi che ormai ti ha preso come mamma Non è la tua mamma lui Ok, va bene Tieni del pane Aspetta, aspetta Allora andiamo a prendere Delle altre farine d'ossa Così Oh mio Dio Ma che figata Quindi adesso possiamo andare avanti Possiamo fare tantissime altre cose Sì Perché ormai avevamo fatto tutto Ma aspetta Scusa un attimo Bella faccia Sì Ma noi avevamo già un blocchetto di canne da zucchero Oh mio Dio E dove ti avrò? L'avevamo trovato questo materiale Allora vediamo fino a quanto in alto può arrivare questo Oh mio Ma cosa dici? Ma sei serio? Oh mio Dio Io mi faccio la casa sulle canne da zucchero Guarda quanto è alto Oh mio Dio Wow Ma se provo a fare così Tipo cosa? La faccia secondo me Cosa? Provo? Provo? Provo, provo Oh mamma mia che figata E adesso? E quante ne hai ora? Si possono ripiandare Ne ho undici Un sacco Guarda li metto ovunque Metti, metti che magari spuntano i panda Oh mio Dio Se spuntano i panda io impazzisco Bella faccia Io perdo la testa È una giungla Tanto abbiamo tantissime farine d'ossa Ok Ottimo Wow che figata Guarda quanti Eh non esagerare però adesso Non ho più farina d'ossa Io esageriamo Esageriamo Ok ragazzi Quindi bella faccia Oggi ci ha fatto trovare Una sorpresa Che sinceramente Era completamente inaspettata Però È bella idea Bella faccia È anche voi Ma non è stata mia l'idea Vabbè l'idea degli iscritti Però hai fatto bene A mettere quella cessa là Grazie Solo che ora c'è un problema Chi ripulisce tutta questa cobblestone Buonanotte No no Bella faccia Torta qua Non puoi andartene Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo episodio Ovviamente con l'1.14 Ci sono tantissime altre figate Che potremmo fare Però purtroppo Le dovremmo prendere Dalla creative Dimmi Eh vieni a vedere Perché è troppo divertente Che cosa No Non è un lavandino quello Jimmy Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Della vanilla insieme Da me bella faccia Tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao